Salve a tutti, ciao a tutti di Facebook e di Youtube, soprattutto per quelli di Facebook, perché questo video lo voglio fare per quelli di Facebook, dicendovi che avete un po' di idee confuse sui disoccupati veri, perché i disoccupati veri è solo una categoria e deve avere questi requisiti, quelli che ho io, non aver mai fatto un lavoro fisso, non aver mai avuto un contratto di lavoro fisso, non aver mai avuto una busta paga, aver fatto solo tirocini borse lavoro e borse lavoro pagate poco e di pochi mesi o al massimo di un anno, ma no le altre persone, le altre persone che hanno già avuto un'esperienza lavorativa con lavoro fisso e contratto fisso, anche se sono state licenziate, non sono disoccupati veri, perché hanno avuto già un'esperienza di lavoro, anche se sono state licenziate, non siamo sulla stessa barca, voglio rendere chiaro sta cosa, perché mi fate incazzare di brutto, come precari che vogliono essere disoccupati veri, vogliono essere nella mia stessa barca, no, neanche casse integrati sono nella mia stessa barca, perché chi è stato licenziato dopo che ha fatto un lavoro fisso ha preso molto più di me, molto più di me di soldi, anche se sempre pochi, ma una liquidazione l'ha presa, io non ho preso niente, io prendo solo i soldi quando vado a fare tirocini, prendo i soldi e basta, ma non dall'azienda, da un'altra parte prendo i soldi e mi vengono dati anche pochi, una miseria vuole di più, che sia bene chiaro questo e i casse integrati un pochino più di me prendono, quindi non possono considerarsi disoccupati veri, perché disoccupati veri sono quelli che ho detto, i requisiti devono avere quelli che ho detto all'inizio, quindi sia bene chiaro questo, perché mi sono talmente letteralmente incazzata, e quelli che sono stati licenziati perché sono andati in maternità con le persone, con le donne, la liquidazione l'avranno avuta, quindi non possono essere disoccupate vere, perché un contratto fisso l'hanno avuto fino a quel momento, quindi, ma io sono disoccupata vera, perciunta non sono neanche incinta, non ho un compagno, non ho un futuro davanti a me, vivo con i miei genitori, pensionati, e quindi che cazzo volete da me? eh, scusate, ma ve lo dico, ciao a tutti, spero che questo discorso sia stato chiaro, alla prossima